Il 28 febbraio alla Casa dell'Energia, serata di preselezione di questa nuova Kermess, questa gara di karaoke, so che ci sono tantissimi cantanti. Tanti cantanti, anzi, anzi, abbiamo dovuto no eliminarli, però visto che abbiamo 3-4 puntate, ora non mi ricordo come, abbiamo dovuto un po' dirgli che ci saranno altre gare, perché se no non ce la facciamo con i tempi, e tanta richiesta, sono molto incuriositi per questa cosa qua che abbiamo un attimino creato con voi, Piero e il maestro Marconi. Tutto sarà ripreso da Rezzo TV e sarà itinerante, andrete in giro, Casa dell'Energia all'inizio e alla fine. E alla fine, poi andiamo in vari ristoranti, la Torretta, poi andiamo al Casale da Gianluca, poi ritorniamo lì, al finale, ci sono anche dei bravi cantanti, molto sorprendenti. Livello alto? Sì, anche livello alto. Difficile, ora io non sono in giuria, ma difficile anche da scegliere. La giuria da chi sarà composta? Si sa qualcosa? Io so che c'è la dottoressa Rossi, poi c'è la Greta Settimelli, il nostro direttore di Arezzo TV, e poi un altro personaggio, ma mi sfugge il nome. Il vantaggio sarà che rispetto a Sanremo qui non ci saranno polemiche sul televoto, perché non c'è. Oddio, già qualcuno, c'è qualche polemica, però dai sorvoliamo, ci facciamo per divertirci, se no andiamo tutti a Sanremo.